Ciao ragazzi e bentornata nel canale! Allora, oggi nuovo video e siccome ho visto un pochino in giro su Instagram su Youtube questa nuova tecnica di applicare le ciglia finte all'interno dell'occhio ero molto curiosa di provarle però avevo anche dall'altro lato molta paura di farmi male quindi ho deciso di filmare con voi un video in cui lo faccio per la prima volta e ovviamente non sono esperta quindi vedete proprio una prima impressione con tutte le paure che io avevo prima di provarlo comunque questo è l'effetto finale ho fatto due occhi in maniera diversa da questo lato ho applicato tre ciuffetti di ciglia finte singoli soltanto ovviamente nella parte finale e invece da questo lato sempre nella parte finale ho applicato un pezzetto di ciglia intera che però sono andata appunto a ritagliare quindi alla fine più o meno il volume che ho dato alle ciglia è uguale però ho utilizzato due tecniche diverse e devo dire che quella che mi piace di più è sempre quella dei ciuffetti perché li trovo sempre più naturali e meno aglienti io vi lascio al video non ci credo ho già applicato la prima è veramente facile veramente facile ok ok Grazie. Questo è un effetto con tre ciuffetti applicati soltanto nella parte esterna e adesso vediamo cosa succede applicando quella intera. Allora ovviamente prima di proseguire taglio un pezzettino di ciglia e adesso proseguo applicando la colla, procedo. Ok, quindi questo è l'effetto finale di cui ho messo tre ciuffettini piccoli. Di qua invece ho messo un pezzettino di quelle grandi. E devo dire che è stato più semplice applicare i ciuffettini piuttosto che il pezzettino grande. L'effetto forse è leggermente più voluminoso da questo lato perché effettivamente ce ne sono tre. Però devo dire che mi piace perché effettivamente io in questo momento ho una riga di leganger e forse ho sbagliato, avrei dovuto lasciare l'occhio nudo per vedere bene appunto quanto si notano le ciglia finte. Allora su di me vi posso assicurare che non si notano per niente se non fosse per questo pezzettino sotto. Si vede però è anche vero che io ho applicato il mascara prima di mettere il ciglia finte quindi provo adesso a riapplicarlo e vediamo cosa succede. Ok, applico il mascara. Allora questo l'ho fatto con il mascara e come potete vedere non si nota assolutamente che io abbia le ciglia finte. Forse preferirei mettere le ciglia finte sopra e poi una riga di eyeliner. Devo valutare bene i casi però diciamo che l'applicazione è abbastanza facile. Non è spaventoso, cioè è più spaventoso vederlo che non effettivamente realizzarlo. quindi niente, a me è risultato piace. Per essere la prima volta non l'ho trovata complicata e sono stata capace di metterla sia con i ciuffetti sia con la ciglia intera. Cioè, oddio, staccando, tagliando la ciglia intera. E niente, diciamo che potrei anche uscire così, nel senso che non si vede a questo punto la differenza. Andrei solo a truccare la rima interna dell'occhio. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!